Di chi sono queste robe? Di chi sono queste robe? Di chi sono queste robe? Adwa, senti, guarda che in cucina il gas non viene. Il gas? Ma non c'è neppure la luce. Come non c'è la luce? Ma l'avete fatta la domanda? No. Me ne sono scordata. Va bene? Che avete da guardare? Non ci sono solo io, no? E poi non la fate tanto lunga, ci arrangiamo. Nella cassa ci sono le candele. Spostati, lasciami passare. Mi sono messo a sedere adesso. Passa dall'altra scala. Ma che discorso, perché devo uscire fuori? Spostati. Io non mi sposto. Ma devo andare di sopra, tirati là. No. Adwa, la vedi? Dai, lasciala passare. Sta lì. Non ti muovere. Di che ti impicci tu? State attente, eh? Che cominciate a rompermi le scatole. Attente noi. Ma sei tu che ci devi ringraziare? È in ginocchio pure. Ma che ce ne fregava a noi? Noi non siamo mica vecchie come te. A te ti è andata bene che hanno chiuso le case, se no finivi in quelle da 200 lire. Di un po' quello che diceva la signora lì da voi. Diglielo, su, diglielo. Ma hai paura di ripetarlo davanti a lei, eh? A me però me l'hai detto. Io finivo in quelle da 200 lire, ma tu finisci al manicomio. Come quell'alcolizzato di tuo padre. Su, avanti. Tu hai il cervello malato. E non guarirai mai. Mai. Hai avuto pure il coraggio di fare un figlio. E tu perché non parli del tuo? Che è nato morto. Dai, spostati. No. Madonna mia. Ve l'ho detto, no? Che è una pazza. Bene. Allora, ragazze, mi aiutate o faccio da sola? Ma che mangiamo stasera? Oh, Gesù, mangiamo le candele. Marellina! Marellina, dove vai? Marellina! Marellina! Vesame, besame, mucho. Na, 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 na. Che ho detto? Io me ne vado a letto, buonanotte. Ci siamo imbarcate bene, noi i nostri soldi. Sì, metteteci pure tu adesso. No, 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 no. No, 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 no. Adwa, dormivi? Che vuoi? Beh, siccome stavo sola... Andiamo bene. Hai paura? Vai, mettete a sedere là. Ma dove voi pescate a voi? Voi proprio scelte nel mazzo. Quella che se ne va, l'altra che è peggio d'un mulo è tu che hai paura dello scuro. Ma che siete, figlia di Maria? Se eravate al posto mio, che facevate? In Africa con la guerra. Io ci stavo però, sotto una tenda, sempre la fila fuori. Poveri Cristi. Il giorno dopo morivano. Passavano, passavano. Eppure non sono crepata. Beh, ciccia. Ti sei addormentata? Dormi, Don. Te ne freghi, eh? E hai ragione, perché pure a me non me ne frega niente. Non, 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 non. Sì... ave... Non, 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 né? Ebbene, è un piovane con Marina. Sì... Grazie a tutti. 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 Come stai? E i pulcini? Uno, due, tre, quattro, cinque, cinque. Sono cinque? Abbiamo... Venite! Ehi, come stai... No, no, no... No, no...